Come descriveresti Fabrizio Corona? Simpatico, salutava sempre, come Ted Brandi Ma se tu tornassi indietro lo risposeresti? Certo, ovvio, perché no, a parte scherzi adesso, ho diventato serie No, Fabrizio è un narcisista e vecchiato Era o è? Lo è, perché adesso è vecchiato, è narcisista, però adesso è vecchiato Però c'è una cosa, ha un buon cuore, è una testa calda Non la fa una giusta, però ha un cuore buono Ci ho messo del tempo, vent'anni più o meno, di capirlo Però non puoi che non volerlo bene E io gli voglio un bene dell'animo, proprio un bene fraterno E poi quella cazzata che dice, padre mio figlio, dobbiamo fare per questo Cioè, ipocrisia portami via No, quando uno stronzo è uno stronzo Devi capire perché E quindi sì, non perché padre mio figlio Anche, però non perché Perché è un cuore pulito In un'altra intervista hai detto Che comunque lui mette sempre il denaro prima di ogni cosa Ma queste sono le certezze Non siamo qua di parlare dei suoi difetti Siamo qua per indicare la persona Lui è una persona che sicuramente Come tutti noi abbiamo Però io non chiamo difetti Sono le persone che sono fatte Io sono fatta, non siamo qua a giudicare No, no, assolutamente È narcisismo Poi io dico, ma questa parola è narcisismo Ha dato questo povero narciso Che non ha fatto altro che vedere il suo riflesso Non aveva neanche tempo di innamorarsi di se stesso È caduto, non sapeva notare È affogato Poi è stesso narcisismo Cioè, basta con queste parole utili Cioè, povero narciso Io sono pro narciso Perché sto povero agli ozzi Guardate Perché per prima volta si è visto E quindi È caduto Non le hanno insegnato che aveva a guantare Ok